Come è una funzione subito visibile? Come è una base che la Caleido ha già a catalogo, ovvero non è un nuovo progetto di termoarredo ma è un'idea che completa un termoarredo esistente con la sua cover che ha la funzione di porta salviette. Questo ha messo anche l'azienda nelle condizioni di avere con noi subito un buon feeling e di dare per il colore, per la forma, già idee che possono essere per il futuro una nuova esplorazione di questo progetto. Quello che intendo dire è che l'azienda si è trovata nel concetto di produzione seriale, che è l'idea base del design, a poter fare dei ragionamenti immediati, a poter calibrare un investimento e una presentazione che rispondesse alle domande del mercato di oggi, perché questo prodotto vuole essere una risposta alla funzione dei bagni per un pubblico molto trasversale. Trovo che questa esperienza ha dato alla mia esperienza sul progetto di termoarredo ma comunque sul progetto nell'area redobagno un passo in più rispetto a precedenti esperienze. Ritengo che oggi il rapporto con Caledio possa diventare un prodotto sicuramente in crescita perché abbiamo trovato sintonia da un punto di vista costruttivo, dall'idea di base che poi è la risposta qui visibile, ma in qualche modo anche quello che possono essere nuove direzioni su questo settore, che continua a essere in evoluzione ma che deve rispondere oggi ad una compressione di prodotti e di mercato. Riteniamo che insieme a Caledio si possa fare una strada che allarga su tanti versanti ma che trova sempre delle idee di novità.